Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, un video clamoroso. Per tutti quelli che partono da zero, che vogliono guadagnare online, che non sanno fare niente, dovete investire una piccola cifra. Almeno questa è una possibilità che io ho visto, non ci guadagno niente, non è che dovete darla a me questa cifra, ma vi spiego un metodo passo passo per guadagnare online. Se parti da zero e se non sai fare niente, devi semplicemente prendere una cosa da una parte e metterla da un'altra parte. Prendere una cosa da un sito e vendere in un altro sito. Un altro sito che è proprio quel sito, scegliamo quel sito, perché ci fa anche il marketing. Noi lo carichiamo lì e ci possiamo aspettare delle vendite. Non è come altre piattaforme che tu magari metti una cosa in vendita e muore lì perché nessuno. No, ci sono dei siti che portano traffico, che ci portano delle vendite in automatico. Amazon è un esempio. Io metto un libro su Amazon e Amazon me lo vende, almeno mi fa un po' di pubblicità, lo fa vedere a persone interessanti. Poi se ho scritto bene la descrizione, se ho fatto un libro interessante, poi la gente lo compra. Ma ti puoi aspettare delle vendite passivamente. C'è una piattaforma che ti fa la stessa cosa, come Amazon, però con i videocorsi. E allora mi è venuta questa grande strategia che se io dovessi cercare di guadagnare online partendo proprio da zero, farei questa cosa. Ve la condivido qui. Voi iscrivetevi al canale, commentate perché mi supportate. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti. Oggi un altro video clamoroso. Allora abbiamo visto, ora vi spiego il metodo passo passo, iscriviti al canale e commenta Miki, buonferagosto, non lo so, vedete voi. Allora nel video precedente abbiamo visto Marchio privato, se te lo sei perso, ti metto il video nelle schede. È una piattaforma che ci permette di acquistare dei prodotti digitali e acquistiamo allo stesso tempo la licenza per rivenderli. Quindi sono prodotti digitali già pronti. Vedetevi il video, ve lo metto qui nelle schede, del video precedente. A questo ho fatto vedere un po' di prodotti. C'è una sezione che non vi ho fatto vedere, che vi faccio vedere adesso, che è clamorosa. E vi do proprio un metodo passo passo per guadagnare. Vi dico esattamente che cosa fare passo passo, quindi iscriviti al canale. Lo so, lo sto dicendo sempre, ma sono troppo casato. Ricambiate, lasciate un commentino, sia che siete iscritti e se non siete iscritti, iscrivetevi e commentate. Commentate perché mi date un boost incredibile. Allora, andate su marchioprivato.com ed è il primo sito. Da qui prenderemo il videocorso. È un sito che ti permette di avere la licenza per rivenderlo e lo puoi modificare un minimo. Puoi metterci il tuo nome. Ovviamente sono copie limitate perché ovviamente poi uno a fatica riesce poi a rivenderlo se tutti lo possono comprare, ok? E qui vedremo, ci sono solo cinque copie disponibili. Quindi è un metodo che dovreste applicare adesso. incredibile. L'altra piattaforma è Udemy. Udemy, piattaforma per videocorsi dove andremo a vendere il videocorso. Ma noi non faremo niente. Pazzesco. Questo è per tutti voi che siete lì, che cercate il metodo senza sforzi, senza fare niente. Però ovviamente qua c'è da spendere una... 97 euro di costa. Ma poi lo potete rivendere qui. E questo qui, questo sito Udemy, vi potrebbe portare delle vendite ogni giorno. ogni due, tre giorni. Lo comprate a 97 euro una volta. Pure che lo rivendete qui a 47 euro, ne vendete due e avete recuperato l'investimento. Dopo è tutto guadagno. Perché rimane qui. E questa è una piattaforma che te lo promuove, te lo fa vedere a tutte le persone. Perché ha un sacco di traffico, perché c'è un sacco di gente che compra i corsi su Udemy che costano poco perché non vogliono spendere migliaia di euro. Ok? Corso d'inglese. C'è di tutto. Ok? Questa è la cosa da fare. Poi ovviamente, questa, ovviamente, Udemy è abbastanza pieno di roba, quindi non è così semplice. Bisogna aspettare per fare le vendite. Ok. Però, diciamo, i primi soldi online. Ovviamente, se volete mettere in piedi un business serio, ovviamente, Marchio Privato rimane comunque una piattaforma che potete sfruttare. E io vi consiglio magari di magari prendere i prodotti digitali da qui. Guardatevi il video precedente per vedere come funziona. Ora non lo farò perché qui parliamo solo di un metodo che adesso vi faccio vedere. Il video approfondito di Marchio Privato è il precedente. Vi metto anche il video nelle schede. Magari ve lo metto anche in descrizione. Però, da qui possiamo prendere dei prodotti e magari venderli nella nostra community. Ecco, questo è uno step successivo. Anzi, no, è, diciamo, il modo migliore per sfruttare questo sito che potrebbe essere veramente interessante perché ci dà dei prodotti già pronti. Se noi abbiamo la community, pam, abbiamo fatto. Ok? Ok? Adesso, però, ovviamente, per chi non ha una community, vi consiglio il mio corso di un'ora gratuito su come fare 3.000 euro al mese in organico con i prodotti digitali YouTube più un blog. Magari voi non volete creare i prodotti digitali e usate quelli del sito marchio privato. Però, guardatevi il mio corso di un'ora dove vi faccio vedere come guadagnare. Andate su corsogratis.michelemaralino.com e faccio vedere proprio io come con il mio canale musicale vendo prodotti digitali nella nicchia musica che è la più sfigata. E qua, potete vedere, ci sono belle notifiche PayPal che possono arrivare bei guadagni ogni giorno con i prodotti digitali. Però, devi costruire il modo per fare soldi veramente cifre interessanti più di 3.000 euro al mese con un canale YouTube un blog e i tuoi prodotti digitali. Ovviamente è quello di creare appunto un canale YouTube molto seguito e un blog. Ti spiego tutto su corsogratis.michelemaralino.com trovi anche il link in descrizione. Ok? Poi, non vuoi spendere quei 97 euro? Non vuoi mettere in piedi un business online proprio da zero? Non hai niente? Non hai assolutamente niente? Allora, puoi provare il dropshipping di servizi. Vai su Fiverr, cerchi un servizio, questo è un metodo che ho rivelato per vedere i video precedenti, scegli un servizio che svolge un libro professionista lo puoi rivendere al triplo però devi avere sempre la tua community però tu lo acquisti solo quando te lo comprano al triplo del prezzo. Se volete, ora non mi dilungo, andate su lezione.michelemaralino.com c'è una lezione gratuita di 30 minuti dove vi spiego come guadagnare migliaia di euro ogni mese senza fare niente con il dropshipping di servizi. Scarica la lezione gratuita di 30 minuti dove spiego tutto. lezione.michelemaralino.com Trovate il link in descrizione. Ma adesso chiudiamo queste pagine i link sono in descrizione adesso torniamo al nostro metodo ai nostri due siti magici che ci permettono di fare soldi. andiamo su marchioprivato.com su marketplace clicchiamo su raccolte comunque loro aggiornano sempre queste sono le raccolte adesso disponibili. Questo mi è caduto l'occhio su questo magari poi ne arriveranno altri anche intelligenza emotiva può essere interessante però quale nicchia migliore del guadagnare online? 10k al mese in 180 giorni questo prodotto è molto interessante io lo acquisterei se partissi da zero lo acquisterei acquisterei la licenza per rivenderlo e lo caricherei su Udemy ma guardate quanta roba vi portate a casa qua è spiegato tutto però ci sono tutti i moduli ci sono due ebook e poi ci sono 25 video tutorial passo passo dove questo ti spiega anche come creare una landing page una sales page è un video è un videocorso molto completo che ha anche dei bonus è pazzesco ragazzi vi sto condividendo una roba iscrivetevi e commenta Michi hai esagerato a questo punto perché pure contro e vado contro cioè questo è un corso che fa concorrenze ai miei corsi ma ve lo sto divulgando gratis è pazzesco sono stupido quindi iscriviti al canale perché questo te lo porti a casa con 97 euro ci sono un sacco di bonus ci sono le ultime 5 copie cioè sto vendendo questa cosa senza aver fatto una partnership neanche faccio pubblicità gratuita a questo sito che è di un italiano comunque su tutti i prodotti italiani iscrivetevi al canale e commentate mi faccio concorrenza da solo è pazzesco 5 copie ti prendi la versione gold non c'è bisogno di spendere 197 euro ti acquisti questa ci metti il tuo nome sopra e lo vendi su Udemy ragazzi io mi sento male Udemy è semplicissimo vi registrate fate un account caricate tutto il materiale è anche una piattaforma dove direttamente la gente fruisce dei corsi e lo vendete magari a 27 euro ok l'avete pagato 97 allora le prime tre vendite rientrate dell'investimento però un investimento di 97 euro potreste provarlo a fare considerate che Udemy è una piattaforma che uno carica il corso e ti genera delle vendite costantemente se il tuo corso è di qualità ma questo mi sembra di qualità poi ovviamente potete sceglierne altri vediamo ricchezza per sempre c'è tutta la pagina non so se sono video corsi o è solo un ebook quello è perché c'ha 25 video questi sono tutti anche qua 25 video tutorial anche questo ne potete caricare di più questo quanto costa poi è un business che potete 13 licenze non so quanto costa vabbè costerà costerà potremmo rivendere questo sarà di 97 euro ne potete caricare di più e vi create una rendita perché avete magari 2-3 corsi 4 corsi magari spendete 2-300 euro e ve le rivendete su Udemy e piano piano questa è una rendita passiva online a costo zero senza competenze dovete acquistare e rivendere che poi è quello che fa girare il mondo si guadagna vendendo cose le crei tu o te le ricompri e le rivendi sai quando compri prodotti e poi li rivendi qui si parla di prodotti digitali già pronti con la licenza che te li puoi acquistare su un marchio privato dategli un occhio e poi pensate di sfruttare anche Udemy una piattaforma dove si vendono videocorsi con molto traffico dove tu carichi il tuo videocorso e per come funziona la piattaforma ti fa anche il marketing a tutte le persone che sono iscritte a Udemy che fanno ricerca che loro hanno tutti i dati mandano mail chi ha fatto una ricerca sul business online se io scrivo business online e ci sarà una marea di corsi ecco il problema è che ce ne sono tanti magari è una piattaforma un po' satura però funziona anche Amazon è saturo però io ci guadagno ogni mese come guadagnare con i prodotti digitali 69 voi potreste abbattere i costi e venderlo a 29 euro 19 euro crea e automizza il tuo business in solo 3 euro e questo ha fatto vedete che ci sono le recensioni ci sono 4 stelle vediamo supercorso youtube 2023 due valutazioni 19 studenti questo di 34 euro e 99 per 19 si è fatto il suo il suo guadagno voglio dire ci sono vendite costantemente ovviamente siete appoggiati a questa piattaforma e c'è tanta concorrenza però funziona e non vi costa niente dovete solo potreste creare un business caricando tantissimi corsi 2-3 corsi 4 corsi prendendoli da marchio privato e ripubblicandoli su Udemy ragazzi ma ci rendiamo conto vediamo uno che ha fatto questo best seller vedete questo lo vende a 99 99 8000 studenti totali perché nel tempo te lo continuo a vendere tutti i link sono in descrizione ragazzi se poi volete sviluppare un vostro business e non volete appunto dipendere da Udemy o appunto dal marketing ma imparare poi come creare una community andate sul corso gratis.michelemaralino.com oppure se volete partire da zero con il dropshipping di servizi lezione gratis.michelemaralino.com per approfondire il guadagno online e niente per il resto questo è un metodo per chi parte completamente da zero con poco budget o zero budget fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate iscrivetevi ricambiate tantissimo valore sono andato in concorrenza con me stesso questo video farà esplodere YouTube commentate 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 iscrivetevi al canale aiutatemi a far crescere condividete ma soprattutto commentate e se non siete ancora iscritti iscrivetevi oggi me la sono meritata l'iscrizione andatevi a vedere anche il video precedente su marchio privato che è una piattaforma di cui oggi ho parlato in due video iscrivetevi al canale commentate noi ci vediamo ad un prossimo video ciao